Ce la facciamo ad andare in pausa e a vedere il nostro Luigi Abate, la zebra parlante, vedremo il 19 e sarà qui ospite, eccolo qui, forse, arriva. Un saluto a te Marcello e a tutta la redazione di Top Planet da Luigi Abate, la zebra parlante di Taranto, Juventus Club Lizzano Bianconera. Alcuni suggerimenti per gli acquisti, consigli per gli acquisti, tranquilli, non è pubblicità né occulta né manifesta, c'è la sosta della nazionale, allora approfitto per lanciare qualche idea sugli uomini che renderebbero questa Juventus, che per me oggi è da otto, veramente eccezionale, da dieci. Questa deve essere la Juventus, invincibile in un solo termine. E allora tra gennaio e giugno e la campagna acquisti bisognerà, secondo me, intervenire in questo senso. Per Buffon è ancora presto, almeno un due anni, un anno e mezzo, due anni ce li ha davanti. Supergigi è una sicurezza, una saracinesca inespugnabile, però bisognerà pensare anche al futuro. E allora su Netto, un buon portiere ma non mi entusiasma più di tanto, andrei dritto su Donnarumma, ovviamente il top, o anche su Perin, mica male Perin. Andiamo alla difesa. Beh, i centrali, un po' gli anni passano per i centrali, Barzagli, Chiellini. E allora io vedrei bene Lindelof, lo svedese del Benfica, ma anche Caldara dell'Atalanta, mi sembra davvero fortissimo, un giovane centrale davvero eccezionale. Prendiamolo, prima che il prezzo lieviti alle stelle. Quanto ai laterali, Lichtsteiner andrà via, Evra ha la sua età. E allora, l'Irola, facciamolo crescere, un altro anno a Sassuolo, io punterei diritto dritto su Darmian, visto che è in rotta anche con Murigno. Andiamo al centrocampo, ma Witzel non so se arriverà a gennaio, lo Zenit non credo che per 5-6 milioni se lo terrà, non lo lascerà andare. Mi prenderei magari Betancourt, lo farei già arrivare, per fargli fare un po' di rodaggio, per farlo entrare nell'ambiente Juve. Ma questi due uomini dovrebbero essere per me l'architrave del centrocampo juventino. Verratti è, che sì, dell'Atalanta. Verratti è un sogno, ma se Verratti non fosse possibile, punterei senza sé e senza ma su Fabregas. Ma ci sono anche altri centrocampisti, per esempio Tolisso, bel giocatore, anche versatile. Matuidi, lo stesso Herrera. Secondo me sarebbero da cedere a Samoa Hernanes e con una ventina di milioni anche Leminà. Leminà ha un po' deluso, deve ancora maturare o magari darlo in prestito, chissà. In attacco stiamo bene, manca una quarta punta, perché Piazza, lo vedete, ora c'è stato l'infortuno, noi siamo rimasti praticamente con tre punte e adattiamo Quadrado e quant'altro. Beh, una quarta punta che stia lì al suo posto, un attaccante alla matri, per capirci, che non crei grossi problemi se non gioca sempre. Poi monetizzeremo attraverso la vendita di Zazza. Che dire, abbiamo dei giovani fortissimi, per questo sono molto fiducioso. Penso a Rolando Mandragora, penso a Sensi del Sassuolo che è nell'orbita juventina. Penso a Mattiello, lo sfortunato Mattiello, un ottimo uomo di fascia, voi a destra, voi a sinistra. Che dire, diamoci da fare perché, ripeto, con questi innesti, ma veramente mirati, noi possiamo essere il top, andare over the top, un po' di ottimismo ci vuole. Mi accusano di essere pessimista, questa volta sono stato realista e ottimista. E tutto, alla prossima, Luigi Abate, la zebra parlante.